Caro babbo Natale, io mi chiamo Marie. I miei genitori sono divorziati. Non vogliono più vedersi. Neanche per l'istante dello scambio. È il termine che usano quando passo dalla mamma al papà e viceversa. Hai freddo, tesoro? Non posso aspettare il papà in casa. No, ne abbiamo già parlato, d'accordo? Bene. Ci vediamo presto. Ti prometto che festeggeremo il Natale insieme, ok? Ciao, tesoro. A volte mi sento come un pacco consegnato da una casa all'altra. Ehi, Angioletto, avanti, sali. Abitavamo tutti insieme al centro commerciale. Qui il papà è il capo. Il nostro appartamento è ancora all'ultimo piano, come prima. Ma senza la mamma. Per fortuna, la libreria della mamma è rimasta qui. Quindi è come se lei non se ne fosse mai andata. Solo che però la mamma dorme dall'altra parte della città. Vieni, tesoro, andiamo. Vorrei tanto che i miei genitori tornassero insieme.